È stato convalidato l'arresto di Lir Leba, l'impresario Edile accusato di aver ucciso Tommaso Dini, ex agente immobiliare, che domenica scorsa, intorno alle 1.30 del mattino, si trovava in Piazza Piave a Scandicci. È qui che si è consumata la tragedia. Gli inquirenti hanno lavorato sulle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, luogo di ritrovo conosciuto dallo stesso Leba e dalla vittima, in parte teatro di quanto accaduto. A quell'ora un gruppo di 6-7 persone si trovava nel gazebo esterno al locale. Alcuni testimoni dicono di aver visto l'indagato alterarsi alla presenza di Dini, che si era avvicinato alla vetrina del locale per poi allontanarsi di pochi metri. L'occhio della telecamera avrebbe inquadrato Leba con un coltello in mano diretto verso l'uscita del locale, poi bloccato da un conoscente. Quando la situazione sembrava essersi calmata, Leba avrebbe raggiunto Dini col pendolo con otto fendenti al torace, alle gambe, alla testa e al collo, poi si sarebbe dileguato per fare il ritorno a casa, secondo un testimone. Ferite gravi, quelle sul corpo di Dini che dopo poche ore al San Giovanni di Dio è deceduto. Al vaglio degli inquirenti anche l'audio è registrato nelle immagini. In un momento si sente l'indagato pronunciare per due volte, ora li devo tirare. Oltre alle telecamere sono stati ascoltati i testimoni che hanno assistito alla colluttazione, poi l'ex agente immobiliare è crollato a terra in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri hanno raccolto le prime dichiarazioni perquisita anche l'abitazione di Leba, dove sono state trovate scarpe macchiate di sangue. Dell'arma ancora nessuna traccia potrebbe trattarsi di un coltello a serramanico gettato nella greve, come dichiarato dallo stesso indagato che domenica si è recato alla caserma dei carabinieri di Badia a settimo con il proprio legale, prima che venisse dichiarato il decesso di Dini, per fornire una dichiarazione, anche se davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere.